chi è che è bravissimo che ha fatto i vaccini ha fatto solo un piantino piccolo buongiorno oggi è martedì 10 dicembre e inizia un nuovo vlog perché oggi andiamo con questo piccolino qua questo piccolino qua andiamo a fare i vaccini e allora visto che a mano stamattina è a casa non ne volevo approfittare per fare appunto questo vlog visto che me li chiedete spesso ciao morito ciao morito non mangiare quello lì con me è buono ciao dove andiamo adesso? che fighetto guarda che fighetto sei un fighetto te sei un fighetto guarda guarda che fighetto quella finta giacca di jeans qua ciao polli ciao il sorriso alla mamma il sorriso alla mamma iiii iiii pruleee bene ora siamo pronti e andiamo dalla pediatra che prima di fare i vaccini voleva visitarlo vedere un attimino le creste e tutto quanto poi vi aggiorneremo io ando dopo dimmi sei pronta a fare il vaccino? no non voglio chi è che è bravissimo che ha fatto i vaccini? io ha fatto solo un piantino piccolo io chi è che ha fatto solo un piantino piccolo? te? ho tanto fanno hai fame? si hai fame adesso? si si come il mandarino che buono è che buono è io che buono è il mandarino ecco chiacchierone quanto bravo sei cosa fai lì stravaccato nel divano? ti infastidisco cerchi un tappeto vuoi ancora mandarino? si vuoi ancora il mandarino eh? ciccioti allora la pediatra cosa ci ha detto oggi? che sei un ciccione che sei in sovrappeso di 600 grammi si che sei un cicciotto perché pesi 6 kg e 3 e sei troppo 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 ciccione va bene che sei lungo 60 cm e che sei un belometo tanto bravo guarda che due mascelle guardalo patata e fra un po' si comincia queste sono questi sono i risultati della visita di oggi i dati della visita di oggi il mio topo 6 kg e 3 Manuel è andato al lavoro il topino tranquillissimo sta dormendo io adesso sistemo un attimo la cucina e poi vediamo di andare in giro per i regali di Natale chi di voi mi segue e sa cosa ho detto del discorso del latte io oggi ho riferito che utilizza questo latte e il bambino infatti sta benissimo cresce benissimo in realtà lui utilizza questo latte e quello lì è il nome del latte quindi riconfermo tutto quello che ho detto e che pensavo nel video eh sì anche i pediatri din 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 poi oggi sono andata in farmacia e ho preso questi la fito 9 che avevo già utilizzato qualche campioncino mi sono trovata benissimo e adesso ho voluto provare secondo me un po' di dermatite sempre della fito questo kit di shampoo e balsamo questo è quello per i capelli rovinati e viene 4,90 euro c'è lo shampoo e il chaveau bisset cassante fito baume conditioner balsamo e poi ho preso anche regalo di natale per alessandro che non vi posso far vedere perché l'ho fatto impacchettare però è già sotto l'alberello e vi faccio vedere la borsina che è più grande di lui quello lì è il regalo di mia sorella e gli ho preso questo che è uno scaldotto i microondotti si chiamano per la modica cifra di 29,90 euro mappe dell'oro vabbè ma non importa è praticamente un pelucino che ha dentro dei granetti che si mette in microonde si scalda e quindi riscalda il bambino non si riesco e gli ho preso ovviamente il cagnolino questo è il nostro il barello fatto quindi ho sentito un rumore molesto vai a vedere chi è mi dirà vai a vedere chi c'è chi è e te si ordina anche il tuo regalo la mamma ti facciamo la targhetta nuova quest'anno allora io adesso sto aspettando mia mamma così viene qua mi tiene Alessandro finché vado in giro per negozi così è meno traumatico per lui e io posso muovermi con più libertà vediamo se arriva ciao ragazzi sono appena tornata non ho trovato il regalo di Manuel o meglio l'ho trovato ma come sempre conviene acquistare su internet e quindi acquisterò anche questo su internet adesso ho appena dato da mangiare ad Alessandro è un po' sotto sopra appunto per i vaccini infatti piange ma non disperatamente adesso sto provando ad addormentarlo non ha febbre perché gliel'ho appena misurata e l'ho tenuta controllata anche oggi a pranzo e quindi vediamo un attimino stasera come va regale ho trovato ciao 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 musetta d'arrabbiato amore guarda il mio musetto arrabbiato e fai se risi lo stesso fai se risi lo stesso amore ciao scricciolo che bello che sei quanto bravo sei anche se hai male sei bravo mi fai le bolle ciao dove vai il mio cipollino che ha la febbre piccolo un cipollino mangia il secondo cipollino mangia buon appetito noi abbiamo già mangiato bene ho appena sistemato i sterilizzati i biberon è finito di sistemare la cucina adesso Manuel sta dando da mangiare ad Ale e adesso lo mettiamo a letto gli ho dato alla fine un po' di tachiperina perché ha un po' di febbre è tutto normale insomma con la telecamera guarda il nostro alberello è bello è bello il nostro alberello è bello il nostro alberello è bello il nostro alberello è bello il regalo di Manuel che non sa cos'è ovviamente non lo so non lo so non sa cosa chi è che te l'ha detto te me l'hai detto Lolia io non ti ho detto niente te me l'hai detto bugiardo non lo sai non lo sai facetamente cosa c'è che non voglio rovinarti dimmi la mia sorpresa dimmi cos'è la sei una Lolia la sei una rovina sorpresa dimmi cos'è non te lo dico non lo sai cos'è falso cos'è togliti da davanti a tv guarda questo qua cos'è ma chi è sta qua non è Cristina d'Avena quella lì dai amore non lo sai cos'è vero cos'è non lo sai cos'è si che lo sa cos'è cos'è il forno per la pizza non può essere il forno per la pizza non può essere cos'è Lola il salmo neanche perché sono ancora nuove di sticca è una cosa che ritengo inutile infatti cos'è cos'è cioè scusate scusate cosa dovrei dire io faccio i regali spendo una barca di soldi e mi sento dire che è inutile cosa devo fare cosa devo fare ci rivedremo con il vlog natalizio dove probabilmente vedrete un cadavere cos'è adesso mi lo dici se è quello che penso io a Natale vi dirò che era quello e che era una delle cose inutili che non serve comprare perché perché c'è già a casa chi vivrà vedrà sperando arrivare che è Natale esatto te stai mangiando? sì mi si ciao un regalo anche io sotto l'albero di Natale sì e loro l'hanno già visto va bene bene va bene va bene ma l'ho la cipollina eh Grazie a tutti.